Doro zemen doro ti, ne colbe scaiutoni, unimi e vieni a te. Il collega a noi, con l'Italia, deve diventare non un cimitero dell'Albania, come è stato diventato fino ad oggi, ma deve diventare una strada di amicizia tra Italia e Albania. E noi dimostriamo qui che siamo un popolo civile e non dilenguenti. Lavoriamo nella campagna più difficile che esiste in Italia, l'edilizia è tutto il lavoro che è più pesante. E loro ci accusano per tante cose, che siamo ladri e siamo dilenguenti, ma non è questa la verità. La verità è che noi lavoriamo e siamo tutti gli onesti. E noi solo con la piatta dobbiamo vincere le cose. E noi stiamo in Italia, l'Ustitia America! Giustizia America! Nel nostro territorio, nel nostro paese, come sempre siamo stati uniti e dobbiamo essere per sempre uniti. Sarà la domanda del Consolo e dobbiamo chiedere, dobbiamo chiedere, dobbiamo chiedere i nostri diritti come stiamo noi, come stiamo noi. Perché nei tutti i tempi abbiamo dimostrato all'Europa grande, all'Inghilterra, che noi siamo uniti, partendo dai più vecchi guerrieri albanesi, da James Castriotti, Scanderveu e tutti in fila come sono tutti, diciamo, i saboletini e tutti quanti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!